buongiorno e benvenuti di nuovo a lion bull academy giusto oggi stavo facendo i miei analisi sugli stock sulle azioni e ho trovato un'azione molto interessante ve lo dico soltanto se volete studiarla si tratta di bank of new york mellon corporation è un attivo che al momento molto intravalorato ha avuto una caduta di un 7,83 per cento che è una cosa impressionante è un buono buon momento per entrare in compra perché perché l'estimazione al basso erano di 52 il prezzo medio che lo vedono nei prossimi 12 medi del 55 la massima 63 a livelli che siamo è una molto interessante se vedete il grafico siamo qua sotto questo incredibile riscita che ha fatto e adesso nel momento che sta per riaprire il mercato è a 46,99 perciò è un'azione a tenere molto in conto se volete comprare se volete comprare ricordate di comprarlo per esempio lo potete vedere qua sotto e comprare in x1 senza leva così non vi copreranno non dovrete pagare nessun tipo di commissione e potete mantenere l'operazione per molti mesi e spero vi sia piaciuto questo video dai ciao